ciao a tutti oggi faremo delle chat horror beh sì delle chat horror perché boh non so mi piace ogni tanto vedere delle cose horror mi piacciono i film horror ho detto perché no allora non sono proprio delle chat ma sono proprio delle storie oggi ci andiamo a vedere questa storia horror e iniziamo questa mi dà su marwin da non mi ricordo come chiama e diciamo apri gli occhi tocca per vedere una foto e qui è dove si trova cosa succede si agita e si accorge di essere legata al letto mi spiace per questo a no ok sono in due mi spiace per questo abbiamo dovuto trattenerlo purtroppo perché che cosa è successo sei stato vittima di un crimine violento ti ricordi no quando ti hanno portato ieri è riferito a e sotto shock abbiamo dovuto legarti per imperiarti di farti del male non c'è scusate non c'è da stupirsi se ancora non ti ricordi nulla a cosa serve tocca per vedere ok ultimo una faccia sharing va mi ha bisogno per ti fanno stare meglio mi fa male la testa ho le vertigini è normale in questo tipo di procedura non preoccuparti andrà tutto bene non so il nome non riesco a dire il nome guarda mentre il dottore lascia la stanza si guarda intorno alla cerca di qualcosa da usare per liberare le mani uuuh scegli la risposta non mi fido di questo posto dottore può venire qui per favore io direi non mi fido di questo posto io le pubblicità chiudiamo lì chiudiamo lì non mi chiede per forza devo vedere un video per andare avanti non mi fido non ho capito devo guardare un video per questa risposta quindi non mi fido di questo posto come ho fatto ad arrivare qui qualcosa mi dice che non vuoi che non voglio sapere il certo non voglio rimanere nei paraggi per scoprire cosa accadrà dopo afferra un ago chirurgico tritando sul bordo del tavolo ecco fatto mi sento come se stessi per svenire devo andarmene prima del ritorno del dottore taglio il nastro che lo lega lega col lago con le mani libere rimuove il liquido sulla mano destra devo uscire di qui esce dalla stanza vabbè il nome vedo una dottoressa che parla al telefono tutto sta andando bene sì il nostro primo soggetto è pronto sta parlando di me avremo i primi campioni in un'ora no non ci sono stati problemi è trattenuta in sicurezza no non ha idea di quello che vogliamo e ancora quindi facciamo non posso per scoprire cosa sta succedendo e quindi no o questa è la mia occasione facciamo questa è la mia occasione dai facciamo questa è la mia occasione tocca per vedere va bene dal vetro con del sangue me è dove stai per capire cosa c'è scritto spero che non l'abbia sentito sentito cosa come fai a fare tutto questo casino io ero quanto di questo hai sentito niente stavo solo cercando cosa puntini non mentire se fosse in te mi farebbe molto arrabbiare non ho sentito niente lo giuro bugiardo lei lo spinge contro il muro facciamo vuoi che sia volenta va ok questa certa stava durando abbastanza vuoi che sia violenta la dottoressa dice è questo che vuoi no non c'è bisogno di questo mi sei sicuro perché sono molto brava ad essere violenta no collaboro va bene te lo prometto allora perché stavi spiando ti ho solo sentito parlare di un progetto questo è tutto questa è una cosa di troppo cosa devo fare con te resterò in camera mia te lo prometto non c'è bisogno di fare niente scusate drastico è troppo tardi per questo sei diventato un problema per me in questo caso spinge indietro il vampiro e tira un pugno debole ah quindi un vampiro vabbè a caso cattiva mossa me è cerca di scappare dal dottore torna qui dovrai venire a prendermi tu tu stessa bene faremo a modo tuo vediamo ok non so cosa significhi significhi ma che diavolo che cosa sei lo stai per scoprire un vampiro ok lo sapevo che era un vampiro immaginavo avresti dovuto rimanere vabbè avresti dovuto rimanere in piedi avrebbe funzionato benissimo per te si alza coraggiosamente raccogliendo tutte le sue forze allora cosa facciamo a dirgli cosa vuoi da me prima che tu uccida ho solo una domanda facciamo cosa vuoi da me va cosa vuoi da me no raga me l'ho appena fatto che noia cosa vuoi da me credetemi non è personale se proprio come un ratto in un esperimento quanto è confortante ci serve solo per dimostrare il nostro se il nostro siero funziona se lo fa saremo in grado di tenere gli esseri umani a scopo di raccolta state costruendo una fabbrica di sangue precisamente il siero ti ho iniettato ti dà certezza abilità tipo cosa ti aiuta a produrre più sangue in modo sicuro ecco perché sei ancora in piedi in questo momento in questo momento anche se ti ho bruciato regolamente da ore ormai puntini cioè dopo un po' di tempo è stato un processo così tranquillo ma ti sei dovuto svegliare e rovinare tutto mi dispiace mi dispiace ma non posso più farlo scusate è arrivata un attimo mia madre che ha interrotto questa storia vabbè dovrei uccidermi perché non sto collaborando un tale spirito è un peccato davvero oh beh immagino che faremo a modo tuo corre incredibilmente veloce verso quella persona ah non so urlare perché è di sera quindi non posso urlare infilo un dito nella parte posteriore del collo di quella persona perché questi video li faccio di sera è per questo che sto parlando così piano ok si sente l'umore come se qualcosa si stesse rompendo riesci a sentirlo fermati per favore questo è il suono della tua spina brusale che si fratturma perché mi stai facendo questo ferma volevo che questo fosse un un bello rapporto ma tu mi hai sfidato continuo a muovere il dito facendo contorcere la tizia dal dolore ora sarà terribilmente doloroso ed è stata solo colpa tua pensaci avrei molto tempo per farlo spingi 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 il dito di qualche altro centinetro talmente in avanti jasmin sviene oh bella da oggi quella persona a destra si chiamava jasmin ok è bello di averti qui come ti senti cerca di muoversi o di parlare con il suo corpo non risponde mi dispiace per la visione opuscata è un sfortunato effetto raga praticamente questo qui l'ha fatto svenire alla tizia e praticamente gli ha fatto credere adesso che era una visione che era normale diciamo è un sfortunato effetto quello laterale non che importi ora giusto dopo un po' di tempo ho delle buone notizie però sei l'unico soggetto che è riuscito a resistere alla nostra procedura tocchiamo per vedere togliamo immediatamente hai intenzione di trascorrere il resto della tua vita dandoci da bere il tuo prezzo di sangue non è fantastico sminna cerca di urlare mentre sente gentinaio di zanne sulla sua carne cerca di muoversi e chiedere aiuto ma il suo corpo non riesce a muoversi colti lo scopo della tua nuova vita fine è stato carino vi dico è stato molto carino però direi che comunque questo stagio è stato veramente bello quindi la rischio è stato è stato è stato un po' un po' è stato